Eccoci qua, buonasera, il nostro telegiornale partirà con la caccia all'uomo ancora una volta al tunisino, con delle notizie però che arrivano dalla Germania. Si sapeva che forse era lui, lo si sapeva dall'immediato susseguirsi degli eventi, subito dopo il terribile impatto del tir sulla folla del mercato di Natale a Berlino. Che cosa è successo poi nelle ore successive? Perché non si è subito dato l'allarme su questa figura? Ma intanto dobbiamo dire che è stato ufficialmente riconosciuto che uno dei corpi è quello di Fabrizia Di Lorenzo, la nostra connazionale che viveva appunto nella capitale tedesca. E si ricostruisce anche in Italia il lungo periodo trascorso, quattro anni, nei nostri istituti di pena, e praticamente lungo tutta la Sicilia, da Catania a Sciacca fino ai due carceri più importanti di Palermo. Nell'ultima fase a Lucciardone si sarebbe radicalizzato quel 24enne, fino a diventare appunto un fanatico, un terrorista islamico pronto, come si è visto, a colpire. Ma il problema è sempre lo stesso. Come è stato possibile lasciarlo andare, scontata la pena, non rimandarlo in Tunisia come era stato deciso. Lasciarlo è libero di correre in Europa, di leguarsi e finire in Germania, dove sarebbe appunto stato lui l'autore della strage. Ancora però molte pagine vanno scritte di questa terribile storia. Vedremo però che ci sono delle vicende italiane che riguardano il rapporto tra istituzioni e magistratura. Una, il comandante generale dell'arma dei carabinieri, generale del 7, è indagato in un'inchiesta della procura di Napoli. Vi spiegheremo i contorni di questa vicenda. In realtà avrebbe rivelato ai vertici della Consip, che è la società di proprietà dello Stato, che vigila e effettua gli acquisti, le forniture per vari settori della pubblica amministrazione, che si stava indagando su una vicenda di corruzione all'interno proprio della Consip stessa. Ma vedremo anche che c'è un'altra storia, che riguarda Formigoni, l'ex governatore della Lombardia, condannato a sei anni con l'accusa proprio di corruzione. La vicenda del gruppo Maugeri, la vicenda che l'aveva già portato a essere indagato, la vicenda di cui tanto si è parlato, il suo amico D'Aco, che è stato condannato a oltre nove anni, che gli avrebbe pagato le villeggiature e gli avrebbe fornito altri benefit per il valore di svariati milioni. La condanna ovviamente in primo grado, Formigoni ha detto che ricorrerà, ma resta la dura condanna di sei anni che gli è stata inflitta. Poi le vicende di MPS, che a questo punto è scontato, ha bisogno per sopravvivere dell'immediato aiuto dello Stato. E di Mediaset, Vivondi ha annunciato di essere arrivato al 28,8% delle azioni del gruppo televisivo italiano e ha il 29,94% dei diritti di voto. Vuol dire che è subito sotto la soglia dell'offerta pubblica di acquisto. È vicino quindi al conquisto, al tentativo di conquista del controllo di Mediaset stessa. E poi nel finale del giornale daremo l'addio a quella che è stata la gran signora della moda milanese e italiana, Franca Sozzani, direttrice storica di Vogue. Ma figura che chiunque abbia conosciuto lo stile ha dovuto per forza imparare a conoscere. 30 secondi i titoli. In tutta Europa è caccia Anis Amri, il tunisino di 24 anni, considerato il responsabile della strage di Berlino. Tra i 12 morti è confermato, c'è anche la nostra connazionale Fabrizia Di Lorenzo, la conferma arrivata dal DNA. Anis Amri è una vecchia conoscenza dell'Italia. Prima di essere espulso nel 2015 era rimasto per quattro anni nelle nostre carceri. È lì che si era radicalizzato. Il comandante generale dell'arma dei carabinieri, Tullio del Sette, è indagato per favoreggiamento e rivelazione del segreto di ufficio. Avrebbe svelato i vertici di Consip, vicini a Palazzo Chigi. Di notizie riservate sull'inchiesta per corruzione che riguarda proprio la centrale di acquisti della pubblica amministrazione, con unico socio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'ex governatore della Lombardia e senatore del nuovo centrodestra, Roberto Formigoni, è stato condannato in primo grado a Milano a sei anni di carcere per corruzione nel processo sul gruppo Maugeri. Per i giudici Formigoni avrebbe favorito la clinica Maugeri in cambio di vacanze e regalie. Impugnerò la sentenza, commenta l'interessato. Che ha subito anche la confisca dei beni per sei milioni e l'interedizione dai pubblici uffici per sei anni. MPS non riesce a centrale l'aumento di capitale con solo coinvolgimento dei privati. Il tempo a disposizione è scaduto oggi, l'obiettivo di 5 miliardi è rimasto lontano e sono stati raccolti poco più della metà con i grandi investitori, come il Fondo Sovrano del Qatar, che si sono ormai defilati del tutto. Il consiglio di amministrazione della banca più antica del mondo è riunito a Milano per la richiesta dell'intervento da parte dello Stato, che a questo punto è l'unica ciambella di salvataggio. Se ne è andata a 66 anni, Franca Sozzani, considerata la signora della moda italiana, a capo da 28 anni di Vogue Italia, capace di dettare la linea in tema di moda, stilisti, modelli, sempre all'insegna dello stile. Non si può sempre piacere a tutti e soprattutto non si deve, ripeteva chi la criticava per il suo forte carattere. Buonasera, è ancora lui, il tunisino di 24 anni, che abbiamo imparato a conoscere da quelle foto segnaletiche, l'uomo al centro dell'attenzione di tutti. Per sapere come è avvenuto il suo piano e purtroppo il suo riuscito tentativo di strage a Berlino, per sapere come è riuscito a dileguarsi, per cercare di rintracciarlo, di capire dove è finito, per consegnarlo alla giustizia. Nulla si potrà più fare per le 12 persone che sono state uccise, falciate da quel tir, tra cui la nostra connazionale, da oggi ormai è ufficiale, anche Fabrizia Di Lorenzo è nell'elenco delle vittime. Vediamo. È ufficiale, sono di Anis Amri le impronte ritrovate sul tir che ha falciato 12 persone lunedì sera a Berlino e ferite 48. È lui l'uomo più ricercato non soltanto in Germania ma in tutta l'Europa. Una vecchia conoscenza dei servizi di sicurezza italiani e anche tedeschi, tanto da finire schedato nella no-fly list americana perché è considerato un soggetto pericoloso, radicalizzato, un potenziale attentatore. La conferma che le tracce ritrovate all'interno del tir che è stato lanciato sul mercatino di Natale siano le sue l'ha data nel pomeriggio il ministro degli interni de Mesier in una conferenza stampa. Dietro di lui una Angela Merkel visibilmente scossa. Poco dopo la procura generale tedesca ha emesso un mandato di cattura nei confronti del 24enne tunisino che ha cambiato nome e nazionalità diverse volte dal suo ingresso in Europa e che lunedì sera, subito dopo la strage, ha fatto perdere le sue tracce. Svanito nel nulla, sarebbe ferito ma soprattutto armato. Si cercano anche possibili suoi complici. Si parla di una cellula che potrebbe operare nelle aree del nord Reno-Westfalia e anche a Berlino dove Amri ha vissuto dopo l'arrivo in Germania nel 2015, arrivato dall'Italia dove aveva trascorso quattro anni in carcere. Ma secondo quanto riferito, nelle ultime ore dalla polizia nessun arresto è stato ancora eseguito. Sulla sua testa pende una taglia da 100.000 euro che le autorità tedesche promettono di pagare a chiunque fornisca dettagli utili alla sua cattura. E sempre oggi è arrivata un'altra conferma. Fabrizia Di Lorenzo è tra le vittime della strage di Berlino. La 24enne di Sulmona era andata al mercatino di Natale lunedì sera e lì si erano perse le sue tracce. La situazione era apparsa subito drammatica e i familiari partiti immediatamente per la Germania. È il simbolo di una generazione che ci rende orgogliosi, è stato il commento del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Fabrizia è la ventiduesima vittima italiana in due anni per mano dell'Isis o di suoi simpatizzanti. La Germania intanto prova a rialzarsi. Il mercatino di Brightside Platz è stato riaperto protetto da barriere in cemento armato. Siamo orgogliosi della reazione di calma del popolo tedesco, ha dichiarato Angela Merkel che ha voluto visitare la sede della polizia. Sono certa, ha aggiunto, che riusciremo a superare anche questa prova. E quindi quel Amri, quel tunisino era stato in Italia, ve l'abbiamo detto fin da ieri sera. Ma ora è molto più chiaro qual è stato il suo percorso nel sistema carcerario italiano. Resta da scrivere l'ultima pagina. Come diavolo sia stato possibile che un uomo di cui si era segnalata, sentiremo tra poco anche da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che era diventato pericoloso proprio in carcere, dove era stato di fatto reclutato dal terrorismo islamista, come è stato possibile lasciarlo libero e poi lasciarlo in grado di dileguarsi e di uscire dai nostri confini per andare verso la Germania e non verso la Tunisia, dove doveva essere stradato. Anis Amri, presunto attentatore del mercatino di Natale di Berlino, si sarebbe radicalizzato in carcere in Italia, in particolare nel suo ultimo anno di detenzione a Palermo, era il maggio 2015, prima nel nuovo carcere di Pagliarelli e poi nel vecchio Cerdone. La conferma è arrivata dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che aveva segnalato al Comitato Analisi Strategica Antiterrorismo i suoi comportamenti sospetti, quelli di un soggetto violento, capace, segnalò 18 mesi fa ai servizi di sicurezza, di minacciare un detenuto cristiano dicendogli ti taglio la testa. Nell'informativa sul percorso di radicalizzazione del tunisino sarebbero elencati anche episodi in cui Amri manifestava forme di adesione ideale al terrorismo di matrice islamica. Quello che era avvenuto prima è scritto nel curriculum penitenziario di Amri, il tunisino era arrivato in Italia a Lampedusa come centinaia di migliaia di migranti su un barcone. Era il settembre 2011, aveva alle spalle già una condanna nel suo paese, cinque anni per una rapina a mano armata. I ferri del mestiere criminale li conosce bene, mente fin dal suo arrivo e usa documenti falsi sul molo dell'isola. Si dichiara minorenne quando invece ha 19 anni, ha un ruolo nell'incendio appiccato al CPA di Lampedusa, viene subito trasferito in Sicilia e poi affidato a una casa famiglia di bel passo alle pendici dell'Etna. Dove circa un mese dopo, insieme a tre suoi connazionali, appicca un altro incendio. Viene arrestato e condannato per direttissima a quattro anni con l'accusa di danneggiamento, lesioni, violenza privata e furto. Portato in un primo momento nel carcere di Catania, in tre anni e mezzo, viene trasferito in altri cinque penitenziari, Enna, Sciacca, Agrigento e due di Palermo. Lo descrivono come schivo, silenzioso e problematico e soprattutto violento. Agrigento, nell'estate del 2014, aveva aggredito una guardia carceraria e danneggiato la sua cella. Quando Amri esce da Lucciardone, gli viene notificato dalla questura il decreto di espulsione ed è proprio in questo momento che il DAP lo segnala come soggetto pericoloso per la radicalizzazione. Viene trasferito nel centro di Pian del Lago a Caltanissetta, ma qualcosa nelle procedure delle autorità tunisine per il riconoscimento necessario al rimpatrio non va per il verso giusto e l'Italia lo lascia libero. Andiamo a un'altra vicenda che fa scalpore. Perché? Perché da questa mattina, proprio dalla rivelazione che è arrivata sul Fatto Quotidiano, si sa che il comandante dell'arma dei carabinieri, generale del 7, è indagato dalla procura di Napoli. Perché? Sentiamo. Dalla procura di Napoli nessuna smentita e nessuna conferma. Il procuratore capo Giovanni Colangelo non vuole rilasciare nessuna dichiarazione sul caso del 7. Il comandante generale dei carabinieri, indagato per favoreggiamento e rivelazione di segreto d'ufficio, una pesantissima tegola che si è abbattuta sul comando generale che del 7 guida da due anni. Secondo l'inchiesta dei PM Voodcock, Parascandolo e Carrano, di cui parla oggi il Fatto Quotidiano, il generale avrebbe svelato notizie riservate sull'indagine Consip, la società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che gestisce appalti e forniture per le pubbliche amministrazioni, finita sotto inchiesta per un episodio di corruzione. Nella stessa Napoli, dove la procura lo ha indagato per favoreggiamento e rivelazione di segreto d'ufficio, il generale del 7 ci è tornato spesso anche oggi. Solo una settimana fa era la presentazione di un libro sull'arma dei carabinieri e stamattina di nuovo in città alla caserma Ogaden, sede del comando interregionale per il bilancio delle attività svolte durante l'anno dai militari della Campania, serenissimo, non una parola con i suoi uomini sull'indagine in corso che lo riguarda. Il nome del generale salta fuori nelle carte della delicata indagine sull'imprenditore Alfredo Romeo, che secondo l'accusa per aggiudicarsi una gara d'appalto avrebbe corrotto un alto funzionario della Consip, Marco Gasparri, rimosso oggi dal suo incarico. Il generale avrebbe informato qualcuno di quella indagine in corso, nello specifico il presidente della Consip, Luigi Ferrara, che riveste anche il ruolo di vice segretario generale della presidenza del Consiglio. Lo avrebbe riferito lo stesso Ferrara, sentito dai pubblici ministeri, e prima di lui l'amministratore delegato della Consip, Luigi Marroni, che avrebbe confermato agli inquirenti questa circostanza. Scrive Il Fatto Quotidiano. Del 7 mi disse di stare attento agli incontri che facevo con gli imprenditori, e in particolare con Alfredo Romeo, e riferì la cosa all'amministratore delegato. Lo stesso Marroni fece poi bonificare gli uffici dove sarebbero state piazzate le micro spie. In questa vicenda, dai contorni ancora tutti da chiarire, spunta anche il nome di Tiziano Renzi, il padre del segretario del PD non indagato, che avrebbe avuto rapporti con un personaggio coinvolto nell'inchiesta, Carlo Russo, un imprenditore di 33 anni, di Scandicci, amico di Romeo, che vantava i suoi rapporti con Renzi Senior e la moglie. Resta a Napoli solo il filone dell'inchiesta che riguarda l'imprenditore Romeo e l'episodio di corruzione, mentre l'indagine relativa alla fuga di notizie che riguarda del 7 è finita sul tavolo del procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone, per competenza territoriale. Al comando generale dei carabinieri non è arrivata nessuna ufficialità sulla vicenda. Il comandante non ha ricevuto l'avviso di garanzia. Ma allora che cos'è questa storia intricata, che porta addirittura a iscrivere nel registro degli indagati il comandante dei carabinieri? Andiamo a rivelarvi di che si tratta. L'inchiesta Bomba di Natale, che colpisce la reputazione del comandante generale dei carabinieri, si snoda a lungo l'Andi Rivieni tra due palazzi romani a pochi chilometri l'uno dall'altro. Quello di Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana, società in house del Ministero delle Finanze, che opera nell'esclusivo interesse nazionale, e quello della Romeo Gestioni, colosso del facility management, la cura degli immobili e dei relativi impianti e strutture, con gestione dei servizi mirati a incrementare il benessere, il comfort e la produttività di chi li utilizza. In parole meno pompose, la Romeo fa pulizie e manutenzione ovunque, serve amministrazioni, istituti ed enti centrali dello Stato. Ecco il capo, l'imprenditore napoletano Alfredo Romeo, che in un convegno di novembre 2015 spiega come gestire le città. A fine 2008, Romeo cura i patrimoni pubblici dei comuni di Roma, Napoli, Milano e Venezia, e finisce in carcere su richiesta della Procura di Napoli per corruzione turbativa d'asta, assieme a politici di ogni ordine e grado, locali e non. In appello prende tre anni, l'azienda è commissariata, ma poi viene restituita al titolare, assolto in Cassazione nel 2014, perché i fatti non sussistono. Romeo però non vince più una gara, crede che Consip lo boicotti, quindi chiede aiuto all'alto dirigente Marco Gasparri, coinvolto anche lui, ma ha finito archiviato nella prima indagine napoletana. Le gare di Consip sono complesse, impossibile pilotarle, così Gasparri si offre di guidare Romeo nella formulazione delle offerte tecniche e nei mesi scorsi viene ricompensato con diverse decine di migliaia di euro. Le intercettazioni ambientali raccontano i soldi che passano di mano. In gioco c'è FM4, gara da oltre un miliardo, 18 lotti, ogni azienda può vincerne al massimo tre e Romeo è vicino alla giudicazione dei suoi tre lotti da 200 milioni l'uno quando qualcosa accade. Il dirigente Consip intuisce che è nei guai e corre a Napoli da Woodcock dove scopre che è indagato con Romeo per corruzione. È venerdì 16 dicembre, Marco Gasparri parla per cinque ore raccontando tutto ma la voce comincia a circolare, il magistrato teme una fuga di notizie e l'altro ieri manda i carabinieri per la tutela dell'ambiente a prendere documenti in Consip. Così ora sappiamo un bel po' di cose anche che da qualche ora Consip ha modificato l'assetto delle responsabilità organizzative collocando l'architetto Gasparri su non meglio identificate progettualità trasversali. Una brutta storia al di là dell'iscrizione sul registro degli indagati del comandante dei carabinieri. Una brutta storia che ci conferma come la corruzione si annidia ancora in molte zone vicine alla cosa pubblica. E del resto, proprio di oggi, è una condanna per corruzione che non può non far rumore. Condannato a sei anni per corruzione ma assolto dall'accusa di associazione a delinquere per non aver commesso il fatto. Per Roberto Formigoni, presidente della regione Lombardia per 17 anni e 4 mandati, senatore NCD e attuale presidente della Commissione Agricoltura, I giudici del processo sulla clinica Maugere e sui presunti benefit di cui avrebbe goduto l'allora governatore hanno stabilito anche sei anni di interdizione dei pubblici uffici e la confisca di beni per oltre 6 milioni e mezzo di euro. I pubblici ministeri avevano chiesto nove anni per Formigoni che oggi non era in aula. C'era invece il procuratore capo Francesco Greco, il coordinatore dell'indagine che nel 2012 portò all'avviso di garanzia l'inizio del declino per il potente governatore Lombardo. La pena più pesante a 9 anni e 2 mesi è Pierangelo D'Accò, il ragioniere amico di Formigoni che apriva le porte in regione alle strutture sanitarie private. Lui è già in carcere dal 2011 per scontare 9 anni per il crack del San Raffaele. Un amico con cui mai si confondevano affari e amicizia si è sempre difeso Formigoni, accusato di essersi fatto pagare le vacanze sugli yacht di D'Accò. D'Accò era l'intermediario con la clinica Maugeri di Pavia che in cambio di 200 milioni incassati per imborsi sanitari, grazie ad apposite delibere regionali, avrebbe fatto confluire 61 milioni su conti esteri e società del lobbista e di Antonio Simone, allora assessore regionale, anche lui di CL, condannato, anche lui oggi ha 8 anni e 8 mesi. Circa 8 milioni di quel tesoretto sarebbero stati usati per pagare i benefici da Formigoni. Viaggi in località tropicali, vacanze stive in barca, una villa in Sardegna comprata a un prezzo fuori mercato, sostegni elettorali, cena in lussuosi ristoranti, opere di arte sacra di cui oggi il giudice ha disposto il sequestro. Condannati anche l'ex direttore finanziario della Maugeri, Costantino Passerino, è un imprenditore. Assolti con formula piena invece tre dirigenti della sanità lombarda e l'altro amico di Formigoni, Alberto Perego. Formigoni ha affidato ad una nota il suo commento, ritengo ingiusta la sentenza di oggi e la impugnerò, convinto che la mia piena innocenza sarà al fine riconosciuta. E spiega anche che è caduta l'accusa più grave, che costituiva lo scheletro e la sostanza dell'intero impianto accusatorio, cioè l'associazione a delinquere. L'ex governatore ribadisce poi l'eccellenza e la qualità della sanità lombarda, cui, ha sempre sostenuto, mai è stato sottratto un euro. Vi devo dare conto di una dichiarazione del sindaco di Roma, Virginia Raggi. Se mi chiamano, sono pronta ad andare in procura. Siamo pronti. L'ha detto la Raggi, sottolineando la disponibilità di collaborare con la procura di Roma sull'inchiesta che, come sappiamo, ha coinvolto l'ex capo del personale del Campidoglio, Raffaele Marra. Ma oggi l'attenzione sta ancora una volta in realtà su altre partite, quelle della finanza, delle banche, della televisione. Perché oggi, per Monte dei Paschi di Siena e per Mediaset, era una giornata cruciale in cui la borsa diventava lo specchio della realtà. E la realtà è stata che sia MPS, sia soprattutto Mediaset, sono andate giù in borsa a dimostrazione che qualcosa è successo. Cosa? Cominciamo dalla banca senese. Il D-Day del Monte dei Paschi è finito. Il Consiglio di Amministrazione della banca più antica del mondo è riunito in questa ora a Milano per fare il punto sulla situazione. La seconda tranche della conversione dei bondi subordinati in azioni, tutto sommato, non era andata male. Nelle casse del Monte si calcola siano arrivati in tutto circa 2 miliardi e mezzo di denaro fresco, tra i contributi di piccoli e grandi investitori. Ma il colpo decisivo alle speranze di salvarsi, ricorrendo alle sole forze del mercato, è stato il defilarsi degli investitori di peso. Prima di tutti il fondo del Qatar, che doveva essere quel che si definisce l'ancor investor, e che invece si è sfilato. Salvo sorprese clamorose, quindi, il traguardo dei 5 miliardi necessari per completare con successo la ricapitalizzazione è rimasto lontano. Adesso gli occhi sono puntati su Via 20 Settembre per capire come si realizzerà quell'intervento pubblico che dovrebbe tenere in vita la terza banca italiana e tutelare i risparmiatori. Pier Carlo Padoan adesso ha in mano il Sì del Parlamento, al cosiddetto salva banche, 20 miliardi di denaro pubblico, di extra debito, che però non sono destinati solo al monte, ma dovrebbero coprire anche le altre criticità del sistema italiano. Lo Stato in realtà è già dentro il Monte dei Paschi, detiene infatti il 4% delle azioni dell'Istituto Senese. Le prossime mosse dovranno tenere conto dei limiti posti all'intervento pubblico dalle regole europee, ma in questo caso, trattandosi di rischio di sistema, l'Europa può dare il via libera a una vera e propria nazionalizzazione, che però potrà essere solo temporanea. Il monte, prima o poi, dovrà tornare a camminare con le proprie gambe. In corso ci sarebbero una trattativa tra il Tesoro e Bruxelles per decidere i tempi dell'intervento. Il Tesoro spinge perché si concedano tempi abbastanza lunghi, sull'ordine dei due anni. Bisognerà vedere quale sarà la risposta. Ma una cosa è certa, in Europa sarà il primo salvataggio pubblico di una banca di rilievo sotto le nuove regole. Un terreno praticamente inesplorato. E per Mediaset, per Mediaset la notizia è che Vivandi è quasi arrivata al livello dell'OPA. Il livello che ha raggiunto il numero di azioni, la percentuale di azioni che ha rastrellato è del 28,8%. Ma attenzione, danno diritto a titoli di voto per il 29,94%. La soglia è quella del 30%. E il prezzo delle azioni di un'azione Mediaset è sceso praticamente a 4 euro tonni. E molti scommettono che quello sarà il valore dell'OPA. Per giorni è salito senza sosta. Per oggi il titolo Mediaset è sceso forte, meno 12,4% e chiusura a 4 euro tonni. Scambi vicini al 5% del capitale e un passaggio in forte territorio negativo sulla scia delle parole del ministro Calenda. Il governo non può fare provvedimenti ad hoc per difendere Mediaset. Chi ha venduto? Fondi edge americani, sembrerebbe. Sicuramente Wall Street è molto appassionata. Vista anche da fuori, la partita è succulenta, saliscendi improvvisi. Battaglia di Campanili, Francia contro Italia. È una saga, ricorda grandi scalate. Anche se con qualche zero in meno, resta che Mediaset vale in borsa un miliardo in più di quando è cominciato l'affondo. Ma se scende, può significare due cose. Che la partita è alla fine, oppure che è incerta. Vivandì per sua missione ha detto compriamo per trattare. I fondi comprano invece solo per guadagnare. Oggi con i volumi che si vanno restringendo per le feste chi ha tanto cavalcato fin qui la storia si ritira. Ma la partita non è certo finita. Si va verso il panettone con il gruppo francese Vivandì, arrampicatore, che sala un soffio dalla soglia dell'offerta pubblica di acquisto. Un 28,8% che vale una manciata di diritti di voto in più. Mossa sprezzante, pare presa. Non all'unanimità, anche i francesi hanno un cuore. Oggi alla Consob sfilavano i vertici Mediaset per mettere in chiaro quanto hanno già denunciato la manipolazione francese presunta del mercato. Domani da Vegas si presenterà De Pifontaine, numero uno di Vivandì, l'operativo di Bolloré. Che cosa dirà sua discolpa? Discolpa dei francesi indicati come cattivissimi in questa storia? Dirà che si sta muovendo per trovare intesi industriali a sud? Dirà che le operazioni sono di mercato? E il fatto che Vivandì sia azionista di riferimento Telecom darà la cornice al quadro? Anche se questo è un tema che riguarda la concorrenza. Non spetta la Consob. Alla quale spetta invece stabilire se siano state messe in atto situazioni che hanno condizionato l'andamento del titolo. Nel frattempo però, il titolo che sale di più è quello di Berlusconi, politicamente inteso. Lo difendono tutti, anche i suoi ex nemici. E una cosa così non si era mai vista. Vi voglio solo brevemente ricordare che domani pomeriggio sarà consegnato alla città di Amatrice la nuova area di mensa e di collocazione provvisoria dei ristoranti della città. Della città che, come si sa, è stata così duramente colpita dal terremoto del 24 di agosto e poi dalle scosse di ottobre. La consegna dell'opera avverrà ovviamente nel modo più formale ma più sostanzialmente ci sarete anche voi perché quell'opera è stata resa possibile dalla solidarietà dei telespettatori del Tg della Sette e dei lettori del Corriere della Sera. Domani sera vi mostreremo cosa è stato fatto e cosa è stato donato alla città di Amatrice. Ma ora è il momento di ricordare una figura importante, davvero, oltre che popolare, della moda italiana. Nel cuore della moda, nel cuore di Milano, nel cuore del mondo. Franca Sozzani è stata esattamente lì, ovvero ovunque si parlasse di stili, di tendenze, di arte, di fotografia. Perché se l'Italia ha avuto qualcuno a far da corrispettivo all'Anna Vintour, la potentissima regina della moda, direttrice di Vogue, sì, proprio quella interpretata da Meryl Streep nel Diavolo Veste Prada, questi è stata proprio Franca Sozzani della Vintour, praticamente coetanea, direttrice dell'edizione italiana della stessa rivista, anzi meglio di tutto ciò che recasse da noi il marchio Vogue, bambini, gioielli, accessori che fossero. Lei, giornalista, stilista, dentro il meccanismo dell'editoria, quello popolato da stilisti, passerelle, fotografi, modelle, quello così spesso tanto invidiato dall'esterno, si può dire ci stesse come un pesce nell'acqua, con quei capelli biondi a sirena e gli amati vestiti neri. Quella forza e l'intelligenza, però, di non restare mai prigioniera di quel cliché, mettendo, cioè, in comunicazione quell'ambiente, con la vita reale, con gli eventi culturali, con l'arte, stabilendo un contatto continuo tra Milano e Italia e quel piccolo, enorme salotto dello stile internazionale, quello che muove cifre e fatturati da capogiro, con tanto di film a lei dedicato dal figlio, presentato alla mostra di Venezia, con titolo ovviamente in inglese, Chaos and Creation, Chaos e creazione. Organizzando, promuovendo, aiutandosi i giovani stilisti, ma soprattutto a muovere un intero settore in sintonia con le tendenze internazionali a vendere copie. La Sozzani ha potuto farlo da posizione privilegiata, da direttrice editoriale di una casa prestigiosa, come la Condennasta, quella che praticamente, da più di un secolo a questa parte, ha dettato i tempi e le forme del gusto, lanciando fotografi e modi di vestire, pensando sempre a come mettere in atto la formula più difficile, parlare di stile con stile. Dopo di noi, a otto e mezzo, Lili Gruber ha degli ospiti che sicuramente fanno opinione, Paolo Mieli, Lucio Caracciolo, Marco Damilano e Paolo Berdini. Si parlerà quindi anche di Roma. Intanto noi ci fermiamo. Scusate, giusto il tempo di dire che a Wall Street sono in rosso sia il Dow Jones per 0,09%, sia il Nasdaq per lo 0,43%. Stavo vedendo le notizie che arrivano dal fronte Montepaschi. Il movimento dei consumatori, Feder Consumatori e anche di Abduzbev, fa notare che in ogni caso sarebbe stato pagato, pur nel fallito tentativo di ricapitalizzazione, una cifra di 448 milioni di commissioni, soprattutto al consorzio capeggiato da JP Morgan. Domani sera ne parliamo. Intanto linea Lili Gruber. Buonasera. Buonasera.